Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati al World Truth di J-Star Victory Versus Continuiamo la J-Adventure di Toriko e andiamo a completare qualche sub-quest prima di addentrarci in quella che è la modalità principale della vettura ovvero la stellina che vedete pulsare in fondo alla mappa Allora, vediamo un po' queste sono tutte missioni secondarie che sono davvero importanti Sia per una questione di trofei per chi è interessato a completare il gioco al 100% perchè uno dei trofei per esempio è completare 30 sub-quest Sia per prendere l'Exp che è comunque importante perchè Exp, soldi e tutte quelle cose lì servono e sono veramente fortemente male Allora, soltanto direi che abbiamo preso uno Gabi Neuro come compagno Mentre chiacchiere il salvataggio di questo gioco che è una badilata in the ball come si dice E allora, continuiamo a spostarci, andiamo un attimo a fare... purtroppo questa nave è lenta come la morte Anzi, guarda, visto che siamo qua, e visto che... so per certo che... non ci saranno i doppi, credo Ah, ok, allora, cosa c'è? Non si può passare No, non per cazzo, si può fare così Yesaa Adesso arriva una bella navetta a rompere il cazzo Vuole le botte e lui gliele diamo E' Jintoki Grande Jintoki Vieni qua che ti corco Le poppe di boa Oda, cioè... Allora, sei volgare, Oda Allora, se mi dai boa, per forza ti uccidono Ok, io sono Goku Bene, andiamo Anzi, Gokuson, come lo chiama nel gioco Dai, si So Cominciamo le botte Contro chi siamo? Contro Boi Ok Oddio, Boi Oddio, sono caro Soprattutto Boi, una bella Boi molesta perché pietrifica, effettivamente Non si può coglioni Noi siamo Saiyan Se questo non ci crea problemi Mi scuota Pam! Se non ci allontaniamo un attimo Vieni qua, vieni, 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 vieni pioggia di merda quindi Goku devi finire il lavoro che ha iniziato gentilmente lì 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 col cattivo di Tony ma direi che non è un problema, perché Goku super Saiyan fa un studio di danni soprattutto con questa bella combina cerco R2 sto anche facendo su un R2, però, tiriamo il victory burst, guardate quanto è figo Goku No, ti userò la Genkidama con te, tranquilla Non è mia intenzione spercarla su te Sai che ti posso ammazzare con un giugno, però prendilo, ok Ma è un altro il mio bersaglio Ed è Jintoki Mani al cielo, ragazzi, datemi la vostra energia Perché mi serve per sconfiggere Jintoki Che bel lancio Scusa, aspetta che mi devo trasformare in Super Saiyan Scusa un secondo Sto serendo E lo uccide, e lo brutalizza Ricarichiamo Purtroppo niente di Super Saiyan 3 Niente di Super Saiyan 2 Ah, ma non è boha No, devi buttarmi boha Oh, shatatatatatatata Guardatelo a sua vita, era fulla, eh Ve lo ricordo, era full life Guardate questa bella confina di Goku metà vita praticamente torno normale ma me ne posso dare ragione nooo ho sparato, perché da prendermi? io faccio un gioco rompa in side proprio sono caro pom guardate che con le onde energetiche come adesso mi ricarico l'energia potta si, si, si mi spari grazie voglio diventare super saian voglio vincerla da super saian ok ho vinto nooo l'ho mancata, ho disfatto la casa e l'ho mancata, ok adesso l'ho preso nooo, poi hai rotto la micchia ok presa e abbiamo vinto direi direi che non può resistere alla mia devastante combo infatti Goku trionfa, sempre Goku trionfa, sempre guarda sotto maiore si, sei stato bravo Goku prendiamo, portiamo a casino un po' di punti mi fanno sempre piacere e adesso avanziamo intanto prendiamo l'exp bling nooo cinque punti di merda cinque punti di merda cinque punti di merda che cazzo vuoi ci toghi? dai apritemi sta cosa salvatazzo che ci perseguita in ogni partita posso già entrare? no, devo fare così ok adesso ci fa entrare prendiamo la rincorsa e passiamo perché siamo dei tigaccioni noi siamo gente con le palle e andiamo a fare la missione principale e beh è una chimera la missione principale che non è la chimera anche se c'è un trofeo per ucciderli tutti ma è contro questa bella figliuola nel tempio di Atena e andiamo Madoka Madaka Box Medoka Box Medaka Box mi ricordo mai che Hacker si chiama è Vegeta è Vegeta che brutte spalle che hai Vegeta infatti fai qualcosa quando metti le braccia incrociate è vero che si chiama quindi c'è da picchiare Vegeta dai dai sono carico non scontro Goku-Vegeta ci sta vai Vegeta è mio vecchio ragazzi Goku-Vegeta uno scontro epico mi rilasso mi carico sono pronto per la sfida andare in figo eh Vegeta dai sono un bel pg lo metto lo metto candidamente però Goku è venita poco da fare io ho già provato Vegeta perché mi l'ha sblocchiato e Vegeta va affrontato lui a lui io voglio Vegeta 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 POM 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 Baka Madoka mi ha blocchiato Madaka Box mi ha blocchiato poi la chiameremo Box POM questa mossa rimane devastante anche contro le tette Vegeta trasformati però mi diverto da torno normale anch'io dai Vegeta fammi sapere quanto sei forte a sotto me mi schifo mi schifo aia mi chiazza vai mi chiazza ti permette di fare va bene Kamehameha provati mai più Vegeta perché le tue le tue indine hanno un senso di esistere secondo te vai gari capi ti trasformi o no abbianti di far pinta trasformati in Super Saiyan subito non stare lì fermo a guardare e saldellare a cazzo devi trasformarti in Super Saiyan io divento Super Saiyan quindi tu devi imparare a trasformarti in Super Saiyan quando ti dico i mercati tutto Vegeta voglio fare una cosa serio non voglio fare uno scontro alla merda lì l'altro il Victory Burst da Super Saiyan e perdi tempo ti trasformi grande Toriko grande parte all'attacco Toriko neanche noi fame grande Toriko vai devastali bravo ne hai mandato che io ho uno quindi io ho scelto ma tu c'è che io leceta l'ultimo che dovrei farcela no sono arrivato corto non ci voglio credere sono arrivato corto ma porca puttana Vegeta allora andiamo a picchiare mod H va no dai avevo fatto una grande entrate in scena me l'hai rovinata oh oh no Vegeta vaffanculo stavo facendo la combo della vita guarda guarda la combo della vita si chiama combo della vita no ti mancano no dai non mettermi a terra bastarda guarda guarda e da super saian l'avrei uccisa purtroppo non sono super saian purtroppo non sono super saian guarda gli stavo per dare lo smash e la sliscia perché è già morta che tristezza è veramente una sega c'è anche a da ferro beh sei per piacere per piacere vai via cammina per il tuo sentiero grazie bisogna un level up tutti al 9 grande no 1 al 6 perché è uno sfigato di merda detta in maniera vegeta ti unisce a noi danno un pezzo di qualcosa arigatou 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 io ragazzi vi saluto noi ci vediamo con il prossimo video ovviamente domani ovviamente alle 15 ovviamente su worldgamedou mi raccomando puntuali ciao